Musica Abbiamo imparato da lui a conoscere la terra, a conoscere il pianeta, attraverso i suoi film, i suoi documentari in tv, attraverso i suoi libri. Quindi dire documentarista, mio caro ospite, è un po' poco. Non mi piace. Eh, regista, scrittore. Che sembra quello che vengiva a cercare i documenti. Giornalista, ma potrei dire anche esploratore e avventuriero o esagero? No, no, si esageri. Allora, chi dice di essere? Dico di essere uno che racconta quello che fino a che è stato utile fare questo, racconta aspetti del mondo, soprattutto della gente del mondo, che erano abbastanza dimenticati, i popoli primitivi, angoli del pianeta, dai pigmei del Congo ai polinesiani delle isole Tiamutu, cioè gente che era un po' fuori da un progresso che effettivamente loro non avevano percepito, cioè per esempio mancavano i medici, mancavano di ogni scuola, quindi effettivamente erano incontri. Però tutto questo è finito. Perché è finito? È finito perché il mondo primitivo è stato assorbito. Io sono stato la prima volta nelle isole dell'Oceania nel 54, 53 anzi. Quando sono tornato una seconda volta, una terza volta, finalmente l'ultima volta alla fine degli anni 60, non c'era più niente. In dieci anni quello che era ancora vivissimo. Perché arrivava la radio, la facilità di… Però raccontare gli uomini vale sempre ancora la pena, gli uomini inseriti nel loro ambiente. Sì, naturale. Tu ti sei sempre occupato del rapporto tra uomo e natura, sono appunto 50 anni, no? E l'hai fatto, oserei dire, con gli occhi di oggi, senza ideologia, senza fanatismi. No, anzi, cercando proprio di combattere il fanatismo. Quando nessuno lo faceva però. Oggi parlare di ambiente, di moda? Ma oggi no, sì, è di moda ed è anche una moda, diciamo, molte volte non dico sbagliata, ma addirittura estremamente sbagliata, perché il problema del nostro rapporto con la natura non sono due punti, sono mille, mille punti che coincidono, non coincidono e si oppongono. No, soprattutto bisogna partire dal principio, che mi sembra che tutti dimenticano, che la natura, chiamiamola la natura, insomma, che le forze naturali vanno avanti tranquillamente. Come si fa a dire che la natura è bella? Certo, la natura è bella, ma è anche il terremoto come quello che c'è appena stato. Cioè, la natura, quello che noi facciamo o pensiamo è la natura. A lei natura non interessa minimamente, prosegue secondo le leggi cosmiche, universali, milionari nel centro di anni, nel quale noi siamo coinvolti e dobbiamo cercare di approfittare del meglio e difenderci dal peggio, ecco. Hai detto recentemente che in realtà, a parte la moda o gli interessi politici, eccetera, ideologici, non interessa a nessuno capire davvero fin in fondo. Non c'è una presa di coscienza comune sui problemi del pianeta Terra? Non c'è. C'è una miriade, come vorrei dire, una quantità incalcolabile di piccole prese di posizione, di piccole posizioni critiche, ognuno per il piccolo angolo che conosce. Ma globalmente, che sostanzialmente il problema è come facciamo a salvare questo pianeta, cioè questo problema se lo pone nessuno. A cominciare, che ne so, da quei dementi delle Nazioni Unite che non riescono a fermare i massacri più ignobili che avvengono e sicuramente loro non intervengono. Figuriamoci se intervengono. Poi intervengono delle leggi così momentanee, molte volte anche, qualche volta, sembrano anche un po' assurde, specialmente se non si tiene presente che il mondo è uno, ma la realtà naturale non è una, per cui quello che può andare bene in Alaska non va bene nel Congo, per dire. Quindi è anche molto difficile. L'unica salvezza sarebbe, ma chi ci spera ancora, è una presa cosciente dell'uomo stesso, a seconda di dove vive. Sì, però l'uomo è impotente, noi ci appelliamo agli organismi politici, alle leggi, perché non possiamo, non basta buttare sacchettino a una raccolta differenziata. Ma magari già mi accontenterei anche di quello, perché qua che siamo in un quartiere centrale di Roma, sarà due mesi che io vedo della sporciglia per terra che nessuno ha levato. Cioè penso che anche questi piccoli problemi, perché il piccolo problema non è che influisce sul destino del mondo, però influisce sulla mentalità di tutti, perché se lo fai tu lo faccio anch'io, oppure non lo faccio perché lo devo fare se non lo fa nessuno. Cioè questa mentalità molto diffusa. Ma poi non dimentichiamo un'altra cosa, che stiamo parlando dei sacchettini di sporcizia, ma che ci sono delle guerre in corso. Cioè noi crediamo che le guerre siano finite, ma non c'è mai stato tanto massacro in giro per il mondo. Come dice il Papa, c'è la terza guerra mondiale a pezzettini. Eh sì, ma il Papa ha tremila volte ragione. Purtroppo, come diceva in senso di scherno Hitler, il Papa non ha divisioni, non ha carri armati, non ha aeroplani. Le sue parole sono magnifiche, forti, colpiscono giusto, però colpiscono su della gente che mi sembra, come dire, che le parole li passano da parte a parte. È bella questa cosa che tu dici di legare sempre la situazione della Terra e del pianeta alla situazione degli uomini che lo abitano. È certo. Perché infatti potremmo dire che sei più antropologo che naturalista da questo... Ma io non sono per niente naturalista. Come dicono così, documentarista, naturalista. Ancora mi dicono subacqua, io non vado più sott'acqua da 30 anni o 40. Però hai fatto delle riprese meravigliose. Le prime riprese mi hanno fatto altre cose. Del mare. Sì, certo, è stato il mio inizio. Hai studiato l'ambiente mai staccato dall'uomo? Mai, cioè a noi interessa quello. Cosa sia l'ambiente su una stella lontana di 10.000 anni luce, non può interessarci direttamente. Però quello che è l'ambiente attorno a noi, sì, perché poi dipenderà il futuro dei nostri figli e dei nostri diboti. Forse non era così angoscioso nel passato, perché non si vedevano grandi trasformazioni, non si vedeva l'attacco al mondo, diciamo, naturale del nostro pianeta. Come sta la Terra? Come sta il pianeta dal tuo punto di vista, che è quello di... Testimone del pianeta da sempre. Sì, ma devo dire, dare due risposte molto contraddittorie. Per un verso, quando io ho cominciato a fare le prime battaglie, i primi libri, i primi incontri, cadevo nel stupore generale, cioè non c'era nessuna coscienza di questo, assolutamente. Quindi in questo c'è un grandissimo salto in avanti, cioè c'è una presa di coscienza molto importante. Di negativo c'è che questa presa di coscienza è imponente, ma non precisa, anche molte volte segue degli interessi non molto chiari, non è sincera, e poi manca di un coordinamento, siamo sempre lì, manca un coordinamento generale. Non so se riuscirà mai l'uomo a farlo, c'è da sperarlo, adesso ci sono i mezzi. Ma tutti questi congressi, questi convegni sul pianeta che fanno una tantum, protocolli. Vanno tutti a cena dopo, capito? Quindi gli pagano il viaggio, gli danno magari anche un cachet. Tu l'hai detto. Come sta cambiando la Terra, secondo te? Premesso che cambia sempre per sua natura, grazie a Dio. Io direi che come stia cambiando la Terra, se è la Terra che si sta autocambiando, cioè i ghiacci che si ritirano, tutte queste cose, non ci deve preoccupare, sì, ma non ci deve sorprendere, perché la Terra è sempre cambiata. Qui noi stiamo misurando in anni, ma la storia della Terra, sì, al minimo in millenni, se non in milioni di anni. Quindi dove c'erano i mari c'erano le terre, dove c'erano le terre c'erano i mari, mostri e animali che non ci sono più, altri che sono... Cioè è un continuo divenire e trasformare. Questo dobbiamo accettarlo. È nel limite del possibile, oggi che possiamo farlo, soprattutto oggi che abbiamo l'angoscia che siamo molti, siamo molti, siamo in crescita, dovremmo stare molto attenti a come trattiamo questo pianeta, perché questo noi non gli interessiamo minimamente, ma se gli diamo fastidio, come ha fatto in altri casi, si libera di noi. Però, mi dicevi tu, la storia ci insegna che gli sconvolgimenti climatici, gli sconvolgimenti naturali, sono sempre avvenuti. Oggi crediamo che sia l'uomo a determinarli, è solo l'uomo. È così? Da punto di vista dell'infinamento, sì. Ma certamente quando uno vede, tanto per restare agli ultimi casi, ma ne abbiamo, io ho vissuto un po' di anni, ne ho già visti 10 o 12 fenomeni terribili, come l'ultimo che c'è stato nel Nepal. Quindi è chiaro che la natura prosegue la sua, che le montagne si stanno distruggendo, che i mari stanno... Indipendentemente dall'uomo? Indipendentemente. E il riscaldamento globale, lo scioglimento dei piazzati? Il riscaldamento globale è un problema per noi, non è per la terra. Per la nostra salute, ok. Perché certe volte ci sono stati 10 mila anni di eredità totale, 10 mila anni... Fammi un esempio. Fammi un esempio. No, sul pianeta dico, di cui abbiamo ancora le tracce, dei grandi deserti. Cioè, i grandi cambiamenti climatici, tutti i pianeti, tutte le sostanze viventi nel centro planetario lo vivono quotidianamente. Su degli spazi di tempo talmente vasti, su degli archi di tempo talmente vasti, che noi, egoisti, ciechi davanti ai nostri pochi anni, non vediamo e ci occupiamo ma dovremmo occuparci di più dei piccoli cambiamenti. Ma dove li avrà presi Annibale e gli elefanti nel deserto? In effetti... Eh, ma il deserto era verde. Eh, appunto. Quindi, e non stiamo poi tantissimi anni fa. No, no. Poi sono... Poco più di duemila anni fa. Eppure c'era dove oggi c'è il deserto e non c'erano l'inquinamento atmosferico. Beh, insomma, adesso il fenomeno del deserto non è legato... È indipendente dall'uomo, no? Però è legato a dei fenomeni che proseguono e la desertificazione è una delle cose, ecco, dove l'uomo può intervenire. Perché quello che era stato fatto, per esempio, dagli italiani in Libia, adesso senza polemiche politiche o storiche, abbiamo visto che dove ricoltivi il deserto lo puoi aiutare. Cioè noi potremmo aiutare molto la natura. In realtà sembra che facciamo apposta invece per darle conto, fargli lo sgambetto, mettergli un velenino dentro un'onda. Cioè stiamo facendo il contrario di quello che dovremmo fare. Sì, questo è un problema... Non tutti, ecco, scusa, vorrei però mettere subito una nota che io cerco quando parlo con i ragazzi che sono molto confusi, molto ignoranti e quindi vedono queste cose con un po' di paura oppure con molta incoscienza. Io insisto nel dire che se facessimo un paragone con cento anni fa non c'è paragone in meglio. Questo lo dimentichiamo. Andiamo, ma insomma, dico, è incredibile. No, abbiamo ancora, non so, l'ebola, abbiamo ancora dei mali che non sappiamo ben sconfiggere, a parte che li abbiamo in parte sconfitti. Ma tutte queste erano le grandi epidemie, i grandi problemi della fame. Invece quello che rimane è soprattutto, invece, come dire, la mancanza di un insegnamento che ci potevano aver dato alle ultime due grandi guerre mondiali. Cioè, vedere che uno... Io adesso ho appena lavorato, tu l'hai appena... Animali della grande guerra, la tua ultima opera. Sì, e nel filmato fa impressione... No, ma diciamo cos'è, perché tu pare che gli animali che hanno fatto compagnia all'uomo hanno condiviso il loro e il suo destino. Hanno fatto compagnia, sono stati... O perché sono stati mangiati dall'uomo o perché è morto con lui, no? Sì, sono stati vittime dell'uomo. I cani, ma anche i gattini. Senza capirlo bene. E poi sono nate anche delle amicizie, ma erano più direttamente personali e casuali. L'uomo col suo cavallo, i cani abbandonati che si riaffezionavano a quel soldato, a quell'ufficiale, e via discorrendo. Però è stato anche lì un momento di grandi stragi, cioè mezzo milione di cavalli. Sono state delle stragi inenarrabili che si diceva che era una cosa assurda, ma avrebbe fatto capire all'uomo che con i medi moderni le guerre non si potevano fare. Detto fatto, ne hanno fatto un'altra che è stata pure peggio della precedente. Anche se la successiva gli animali li aveva un po' meno. Cioè in previsione di una terza guerra mondiale che per fortuna non c'è stata, gli Stati Uniti, di andare a vedere questo centro che era stato per fortuna smontato, allenavano i delfini a portare delle cariche esplosive attaccandosi ai sommergibili. Cioè c'era, o alle navi, c'era ancora l'uso dell'animale a scopi di guerra. Senti, questi soldati che tu riprendi, che tu racconti attraverso le fotografie e dei filmati, tra l'altro eccezionali, perché ormai sono cent'anni, hanno una tenerezza, una confidenza con gli animali senza essere animalisti. No. È un rapporto più naturale questo, dell'uomo che non domina la terra ma che in qualche modo la custodisce. Trovo un amico. Poi, voglio dire, come anche credo, almeno io l'ho visto, anche in molte famiglie, nelle famiglie dove ci sia un lusso, però c'è un animale. L'animale ha un minimo di, da quel minimo di tenerezza che aiuta a superare un dolore. E così questa solitudine del soldato, dell'ufficiale, ma anche dei contadini che avevano già l'abitudine a convivere con gli animali. Magari poi li ammazzavano anche e facevano prosciutti e salami. Però c'era, no, ma c'era il cane fedele di guardia, c'era il cavallo. Tu sei vegetariano? Eh? Tu sei vegetariano? Ma, diciamo, lo sono diventato per forza perché non mi piace più tanto la carne, ma sono stato un grosso mangiatore di carne. ideologicamente. Ah, il me. No, no, no. Quindi tu pensi che la Terra di chi sia e le cose della Terra di chi sono? Dell'uomo oppure no? Ma noi decidiamo che sono nostre. Loro non ci pensano proprio. Non ci pensano proprio. Però un condizionamento, io credo che sia giusto, se fatto con i termini che la scienza oggi ci insegna, che solo, non dico cento, ma neanche cinquant'anni fa ancora erano così precise, che il condizionamento che stiamo facendo sulle aree coltivate. Cioè, la trasformazione, se uno vede il paesaggio toscano, se uno vede il paesaggio umbro, ma se vede anche altri paesaggi nel mondo, giapponesi, cinesi, anche indiani. In Brasile. Capisci che Brasile, che da una parte ci sono stati dei grandi massacri, ci sono delle vergognose stragi della natura, danni alla natura. Peraltro, invece, è stata potenziata la natura, protetta, è diventata la Toscana è un giardino per opera dell'uomo, alleato alla natura. Quindi, voglio dire, non è che il rapporto uomo-natura è negativo in prima. Quindi ci vuole non una preservazione, ma una custodia attiva. Ci vuole un'alleanza, un'alleanza, questa parola che dimentichiamo sempre, che invece è fondamentale nella storia dell'uomo. È applicata poco, poco, poco. Perché c'è un po' l'idea di un certo ambientalismo che si debba solo preservare, ma preservare significa creare delle riserve e le riserve sono posti stretti, no? Sì, le riserve vanno benissimo, per carità vanno fatte, vanno conservate, in Italia vanno anche rispettate. Io ho una casa, in una zona dove ci sono cartelli che si è tofittato la caccia, vedo sempre della gente in giro con i fucili, per dire. Cioè, non mi sembra che ci sia ancora una mentalità, anche nelle autorità, per proteggere veramente l'ambiente. Però, detto questo, non è sufficiente. Dobbiamo fare, migliorare la nostra vita perché migliori anche il rapporto con la natura. Non possiamo, cioè, chi sta allo stremo della fame o della sete o di una malattia, insomma, una miseria estrema, non è che possiamo andare lì a far già la predica su come si deve proteggere la natura. Questo è un discorso che deve colpire soprattutto Custodire la natura però e il suo ambiente permette di sfruttarla meglio e di avere più risorse anche per i poveri. Sì, ma se non ha i mezzi, se non ha neanche... C'è mezzo mondo che i mezzi li ha e che non li usa per l'altro mezzo. Sì, è quello. Questo volevo dire. Anzi, forse meno di metà mondo ce li ha in questo momento. Siamo solo al neocolonialismo in Africa, lo sfruttamento da parte cinese, per esempio, anche molto, no? Ma anche lì è molto discutibile perché una collaborazione tra le culture e le genti è auspicabile che ci sia sempre di più. Però un conto è la collaborazione, un conto è una forma di soggezione, di colonialismo, chiamiamolo con una vecchia parola. Senti, l'allarmismo di alcuni ambientalisti, di alcune forme estreme, di ecologismo, serve a qualcuno? Tanto a loro, per vendere il libretto, per fare le conferenze e per avere magari anche qualche sovvenzione nazionale o provinciale o regionale. Per carità, ci sarà anche tra loro senza dubbio chi è in monafede. Però anche chi è in monafede dovrebbe ragionare con un certo rispetto per la realtà. C'è certe regole, certe trasformazioni sono impossibili oggi. Bisogna maturarle e soprattutto, come dire, farle entrare nella testa di tutti. Comunque la nostalgia pure semplice non porta a me. Ecco, allora arriviamo al famoso discorso che è una parola così brutta da ripetere, è un fatto culturale. Il primo problema è un fatto di tutto, l'umanità, oggi, è un fatto culturale. di capire bene dove sta andando, cosa sta accadendo, quali sono le trasformazioni, qual è il meglio, qual è il peggio. Non dico che ci sia qualcuno che lo stia capendo chiaramente, però almeno dei grandi indirizzi, perlomeno, come posso dire, morali, spirituali, generali, sono molto importanti. Tu hai fiducia nella capacità della Terra di sopravvivere? No, io credo che la Terra sopravviverà all'uomo quello e non c'è dubbio, non c'è dubbio, soprattutto se continuiamo così. Dipende come. Se ci fosse un grande spavento e una presa di coscienza, forse… Tu dicevi prima abbiamo avuto due guerre mondiali in 30 anni e non sono bastate. Non hanno insegnato niente. Ancora le spese maggiori dei grandi paesi sono per armi e se pensi nella loro mentalità è anche giusto che sia così in questo momento perché dei pericoli ci sono. Non dimentichiamo che la guerra era una violenza globale, come posso dire, giustificata da leggi, ordinamenti, spinte popolari, quindi grandi fanatismi dalla parte… Oggi invece c'è una forma diversa, c'è questo che… quello che è il terrorismo, chiamiamolo così, generale che è tutta una forma diversa di guerra e infatti nessuno sa bene come combatterla. La memoria però è importante per questo si è anche custode della memoria a parte la memoria tua personale perché dobbiamo ricordarlo che tu hai perso un papà in guerra quando eri piccino. E questo mi ha molto condizionato non tanto lì nel momento solo qui anche in quello perché coincidevamo la guerra ma mi ha molto condizionato nel parlare nel descrivere cosa che ho fatto tanto le guerre che ci hanno travolto e che ci continuano a travolgere. Tu nella ricerca di immagini di suoni di profumi di voci di volti hai sempre ricercato la bellezza? Io direi che ho cercato la verità quindi ho cercato anche la bruttezza perché anche la bruttezza ha un compito importante se non non imbroglie noi dobbiamo imparare appunto non chiudere gli occhi davanti alle bruttezze ammirare le bellezze non in astratto ma in concreto cioè salvandole salvaguardandole facendo il possibile e quanto alle bruttezze non chiudere gli occhi facendo finta che non esistono esistono sono tante Fammi qualche esempio regalami un paio di immagini di bellezza e un paio di bruttezza che a suo modo può essere anche bella le immagini di bellezza sono alcune immagini nel mondo delle coste del mare e sono molto precise ne ricordo perché in queste coste che vorrei evocare se potessi avere qui una bacchetta magica il mare prescinde dalla nostra volontà è in tempesta è calmo è scuro è chiaro è luminoso è tenebroso fa paura oppure ti invita a conoscerlo meglio e quindi questo rapporto col mare non è solamente un rapporto così naturalistico è veramente un rapporto spirituale perché la natura del mare è quella che ancora di più ci ricorda come posso dire la verità della natura il mare è il tuo specchio diceva un poeta no? beh sì è uno specchio che ogni tanto si appanna si arriccia ma insomma è sempre bello per quello e poi però d'altra parte è anche molto bello vedere dove l'uomo ha trasformato c'è una bellissima città una scampagna meravigliosa qual è la città che ami di più? tu che sei ferrarese io ferrara no va bene però no l'amo molto proprio anche proprio per come era stato il suo equilibrio con la terra col fiume ma sono tante altre ovviamente ma poi anche il paesaggio trasformato da quello cinese a certe risaie fantastiche dell'indonesia cioè dove l'uomo è intervenuto con saggezza però molta volontà molta tenacia lascia ci lascia ammirare non quindi una natura selvaggia che pure è bella però non dimentichiamoci che ci piace vedere questa alleanza tra l'uomo e la natura sì il rispetto dell'uno e dell'altro è composta per cogliere dalle ricchezze da tirare diciamo più che dalle forze perché le forze naturali non le guidano nessuno su questo pianeta ma le ricchezze naturali andrebbero più protette e salvate nel nostro interesse tra l'altro cosa ti ha fatto più paura nei tanti viaggi e nelle tante cose che hai visto sono tante le cose che mi hanno fatto paura mi ha fatto molta impressione negli anni 60 a fare un lungo lavoro sull'islam un islam dappertutto pacifico dove andavamo senza in Afghanistan in tutti i paesi ma anche nelle altre comunità musulmane del mondo ormai accolti con una grande fraternità senza più vedere delle differenze fondamentali anzi questa idea ogni tanto con le persone più di cultura più pronte a una conversazione questa unità nel volere credere in un Dio unico creatore era molto importante e oggi mi sconvolge che che sia così cambiato per anni di diversità ci sia questo intendiamoci non vale per tutti i musulmani non confondiamo non crediamo che il mondo islamico sia tutto diventato tutto contro non è vero sono delle classi politiche e dei guerrieri militari dov'è la tua speranza di fronte ai turbamenti grandi e alla paura che scatenano nelle possibilità dell'uomo in Dio se ti dico che ho poche speranze faccio non dico la verità speranze ne ho ho però molte angosce su come chi ha queste speranze le porta avanti finisca finalmente con essere totalmente creduto eseguito e si però è difficile pensare a un'umanità senza violenza le stelle esplodono i buchi neri inghiottano la realtà cioè ci sono delle forze spaventosamente misteriose e violente nelle quali siamo fortunatamente poco coinvolti ma siamo un miracolo che siamo qua no? e ci stiamo accapigliando come sciocchi ma è anche un miracolo che possiamo parlare che possiamo leggere la realtà e comprenderla qui tu ed io oggi a Roma nell'occidente ancora più o meno salvo e anche qua poi non è che tutto si può dire tutto si può fare diciamo che al solito discorso se facciamo un salto indietro nel tempo certamente c'è stato un grande miglioramento c'è stato ovunque anche nei paesi peggiori è sempre meglio di come erano prima però d'altra parte non possiamo dimenticare che siamo sempre possibili vittime della violenza un posto dove vorresti tornare no un posto dove vorrei andare per la prima volta in Milamia in Irlanda c'è ancora un posto dove non sei andato in Irlanda sono riuscito a non andarci perché ci voglio andare se ci riuscirò ma sono troppo vecchio ma senza non per lavoro ma solo per godere di una vacanza di osservare perché il primo film che ho visto da bambino mi ci portò appunto tra l'altro mio padre e si chiamava L'uomo di Aran era un film di Flaherty girato in questa piccola isola davanti alla costa irlandese ed era la dura faticosa ma felice vita quotidiana di questi pescatori di Aran e del loro rapporto col mare con la tempesta con la pesca mi è rimasta una grande sensazione di equilibrio non sdolcinato perché era una vita dura una vita molto dura però vissuta bene e con delle momenti di grande gioia quindi mi piacerebbe se esiste ancora ormai sono passati qualche decine decine d'anni da quando ho visto quel film che però ancora circola per fortuna in qualche club ne fai uno 2015 vabbè come faccio la prendo come auspicio lo prendi come auspicio e io ti ringrazio e lo aspetto grazie mille grazie davvero lo viene a vedere però va bene grazie mille Grazie a tutti.